Ieri Papa Francesco è arrivato a Matera, a conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale. I fedeli lo hanno accolto con gioia nello stadio comunale. Vediamo. Torniamo al gusto del pane perché mentre nel mondo continuano a consumarsi ingiustizie e discriminazione verso i poveri, Gesù ci dona il pane della condivisione e ci manda ogni giorno come apostoli di fraternità, di giustizia e di pace. Grazie a tutti.